Stiamo lavorando molto bene, in campo le ragazze ci stanno dando dentro, con lo staff siamo partite con un programma un po' graduale naturalmente di ripresa dei carichi di lavoro e le risposte sono molto positive al momento sia per impegno che per motivazioni, il fatto di dover affrontare la Serie A credo che questo sia già di per sé una motivazione altissima. Vediamo di proseguire con questo lavoro che sta dando i suoi frutti e cercheremo di fare il massimo delle nostre possibilità senza porci degli obiettivi particolari che credo che troveremo strada facendo nel senso che la mentalità che abbiamo un po' costruito in questi anni è quella di cercare di imporre sempre il nostro gioco, naturalmente incontreremo in Serie A delle avversarie diverse, la sticella si alza molto perché aumenta la qualità, però la nostra mentalità rimarrà quella di cercare di fare il massimo in ogni partita cercando di avere una nostra identità di squadra a prescindere dall'avversario. Pagheremo probabilmente all'inizio un po' lo scotto della categoria ma l'inserimento di molte ragazze anche di esperienza, gli acquisti che abbiamo fatto mi soddisfano pienamente perché sono ragazze che hanno qualità e tanta esperienza di Serie A, inserimenti fatti mirati in ogni reparto quindi credo che queste aiuteranno le altre anche a crescere. Inoltre abbiamo inserito delle giovani che hanno prospettiva e hanno anche una buona esperienza di categoria, pertanto sono soddisfatta, ripeto, vedremo perché poi sarà sempre il campo che deciderà. La scelta che abbiamo fatto delle ragazze non è stata solo una scelta di qualità tecniche, tattiche e fisiche ma anche di qualità umane, alcune di loro le conoscevamo, rispetto ad altre abbiamo preso informazioni perché riteniamo che l'aspetto umano sia fondamentale perché saper stare dentro un gruppo non è semplice così come diventare una squadra è un compito molto arduo, costruirla insieme e sono fondamentali le relazioni, su questo noi come staff abbiamo sempre lavorato in questa direzione cercando di costruire un'identità collettiva, ragionare e pensare un po' come un noi perché quando si è all'interno di una squadra la disponibilità, il mettersi comunque una e appunto a disposizione dell'altra è fondamentale, quindi nello scegliere le ragazze abbiamo valutato tanto anche questi aspetti che secondo me sono i più importanti. La prima differenza tra la Serie A e la Serie B è l'intensità, la velocità di gioco, sicuramente le ragazze hanno anche più forza, le giocatrici di Serie A hanno più forza sulle gambe quindi il gioco, anche la palla stessa proprio scorre più veloce, c'è una maggiore intensità, un ritmo più alto della partita e a questo dovremo abituarci però credo appunto che l'inserimento delle ragazze nuove ci aiuterà in questo senso perché già dalle prime partitine in allenamento ho visto che naturalmente il ritmo si è alzato perché tre o quattro che ce l'hanno già dentro questo ritmo poi lo mettono in campo e le altre pian piano si adeguano sempre con gradualità insomma perché poi sono passaggi che vanno fatti rispettando poi i tempi personali di ognuno. Il nostro modulo di impostazione è sempre stato quello di avere almeno tre attaccanti davanti, il 4-3-3 è il modulo di base che abbiamo utilizzato in questi anni e con qualche accorgimento, l'anno scorso avevamo il trequartista e le due punte davanti, quest'anno l'idea è anche quella di rovesciare un po' quel triangolo avere una punta centrale alta e due trequartisti dietro però sostanzialmente il modulo insomma per me conta relativamente è importante provare a proporre sempre gioco, giocare costruendo il gioco da dietro dal portiere che è una parte attiva e fondamentale quindi impostazione da dietro cercando movimento continuo, anche un'intesa cambiabilità dei ruoli che io ritengo fondamentale non avere delle zone già prefissate in partenza ma andare ad attaccare gli spazi cercando di variare molto per mettere in difficoltà gli avversari.